eccoci qua vi ho aperto la mia sala prove perché devo dirvi una cosa allora è inutile girarci intorno io come artista non ho padroni nel senso che non faccio parte di un teatro assistito in questo anno intero 12 mesi 12 di inattività della mia società società per modo di dire siamo io e mia moglie che ci facciamo un culo come un hangar abbiamo ricevuto ristori che ci permetteranno forse di arrivare a pagare metà delle tasse che dobbiamo pagare quest'anno la conseguenza mi pare logica a malincuore chiudiamo la società e chi si è visto si è visto non sto a dirvi robe che vi annoiano come il fatto che l'attore per la legge italiana non può essere libero deve essere un dipendente magari si fa la partita iva così oltre che pagare le tasse da dipendente paga anche le tasse da autonomo a libertà costa ma il concetto è semplice come si fa se non hai una società o una compagnia che poi sei sempre tu che ti gestisce a essere libero devi trovarti il padrone giusto e io ce l'ho perché come ho sempre detto il mio padrone siete voi ma chi può permettersi il privilegio di avere un pubblico da rompi coioni come il mio che lo sappiamo uno perché rompe i coioni perché un entusiasta perché ci tiene è generoso e quindi caccia volentieri quei 25 centesimi al giorno che adesso vi chiedo per seguire il netflix della cultura adesso vi spiego che cos'è dunque sapete tutti che franceschini ha fatto il netflix della cultura coi soldi nostri ovviamente perché lui di soldi suoi non ne ha lui prenderà quei 10 15 mila euro al mese ma sono sempre soldi nostri ma come funziona il netflix che salverà la cultura che intanto abbiamo distribuito qualche milione a delle società che hanno fatto i debiti già in tempi pre covid quindi sono adattissime per le robe statali e queste società faranno vedere dei video con dentro degli artisti che lavoreranno per una volta de capeo perché per franceschini l'artista è una specie di hobby sta che uno che lavora a titolo semi gratuito per lui l'arte è bricolage ma cosa ne faccio io de tutto questo lavoro di preparazione di tutte queste prove che continuo a fare perché chi fa teatro non ha momenti di inattività anche se non lo pagano si deve allenare come i calciatori non siamo mica stati col culo sul divano per tutto sto tempo ecco qua quindi ho fatto il netflix della cultura ho aperto questa pagina patreon che è una realtà che in italia non è conosciutissima ma in america lo è solo che loro gli artisti li chiamano creator creator cosa fa faccio il creator vabbè sono americani pareti comunque questa realtà permette al pubblico di seguire le creazioni artistiche degli artisti che preferisse nel mio caso di vedere dei video settimanali o avere accesso a sceneggiature dei miei film perché chi è interessato i miei film su teleballasso anche intervistarmi telepaticamente o tutto questo in cambio di un abbonamento mensile che è un vero schiaffo alla ricchezza a differenza di quello della rai il mio abbonamento non è obbligatorio anche se molti di voi hanno commesso l'errore di farmi avere l'indirizzo di casa puoi disdirlo in qualsiasi momento o se proprio ti faccio cagare puoi dire basta ecco la rai sì che dovrebbe essere il netflix della cultura infatti fan delle trasmissioni dove aprono dei pacchi porca della troia vabbè lasciamo stare il teatro ha senso solo in teatro anzi il teatro in televisione è noioso almeno quanto x factor ma io farò dei montaggi coi monologhi che provo nella mia sala prove che sarà anche un modo per consigliarvi dei libri tra l'altro sarà anche bello per gli attori o se volete far teatro se fate o sarà una specie di masterclass per voi ecco risponderò anche alle vostre domande perché patreon funziona come un social c'è una chat o ma non è come facebook che tu mi offendi e io non ti cago no 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 farò dei video dove io mi intervisto me e le domande saranno le tue e poi privatamente ti manderò a cagare pensa che belle interazioni che possiamo avere facciamo del web una roba più sana dunque mi suggeriscono di spiegarvi i livelli di abbonamento ciò se fanno così i creator bisogna che lo faccia anche io allora premetto che i video di cui parlo qua sono tutti inediti cioè non potete vederli da nessun'altra parte anzi presto su tele balasso ci saranno solo i discorsi di capodanno insomma da ora in poi per potermi offendere bisogna pagare e veniamo ai livelli economicissimi ce ne tre come le nostre classi sociali ora che bravo sono a vendere a se sono il mastrota del teatro praticamente allora il abbonamento più basso è l'abbonamento poveraccio che costa 5 euro o sono 25 euro 25 centesimi al giorno caso questo abbonamento ti darà l'accesso alla visione delle prove aperte monologhi comici tristi da ridere da piangere c'è di tutto vi parlerò dei libri che uso per fare le prove e poi ogni tanto ci saranno dei testi scritti poi basta cassa 25 centesimi al giorno non è niente basta dire al barista deve fare il caffè con dentro un po meno caffè e già il barista può abbonarsi per esempio secondo livello il livello polleggiato i polleggiati sono quelli che hanno continuato a prendere uno stipendio anche durante il lockdown qua siamo già oltre 28 centesimi al giorno bisogna permetterselo insomma ovviamente potete accedere a tutte le robe del livello poveraccio che abbiamo già visto ma in più avrete l'accesso ai video balasso contro tutti con interviste fatte dalle vostre domande tramite una chat dedicata cosa vuol dire chat dedicata non lo so neanche io ma veniamo comunque al livello più interessante per me perché essendo un artista è ovvio che chi paga di più mi è più simpatico l'abbonamento magna skei il magna skei è quello che non solo hanno continuato a pagarlo durante il lockdown ma ci ha anche guadagnato allora lo sapete da soli mi dovreste dare 6.000 euro al mese solo per il fatto che quando voi tornavate a casa stremate dai troppi skei che avete fatto io ero a casa da lavorare e vi facevo i video a gratis ma pensate che sconto che vi faccio 40 centesimi al giorno non ci compri neanche a libero con 40 centesimi al giorno d'accordo che ridi di più per quanto non è che repubblica ma senti a cosa che gai diritto per questa voltata di cappello allora io abbatterò l'imu per la prima casa e il posto barca a gratis no 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 ferma tutto scusate no questo è quello che devo dire quando entro in politica ciò se danno 10.000 euro a casalino vuoi che non me li danno a me allora seriamente l'abbonamento magna skei da accesso a tutte le robe che abbiamo visto per gli altri due abbonamenti ma in più udite udite ci saranno i video di spettacoli che non faccio più non c'è altro modo di vederli ci sarà stand up balasso velo di maia delusionist e anche spettacoli dei repertori passati con immagini storiche d'archivio pensate roba di quando lavoravo con macario per esempio ecco per gli appassionati di cinema ci saranno anche le sceneggiature delle scene dei miei film su tele balasso che sembrano improvvisati ma solo perché sono bravissimo ecco e girerò anche qualche scena estemporanea che mi viene in mente ma che non inserisco in nessun film e poi e poi basta comunque non mi rompete i cojoni perché va i magna skei dovrebbero pagarmi a prescindere forse anche solo perché fa piacere sapere che quei 40 centesimi che tu useresti per comprarti la cocaina come un parlamentare qualsiasi io li userò per bere e sarò sempre sobrio quindi quindi se ne guadagna tutti in salute e risparmiamo nella palestra che comunque è chiusa anche quella come i teatri certo certo lo so cosa volete chiedermi voi volete chiedermi ma perché non segui il suggerimento della politica e continui a fare le robe a gratis e magari ti trovi un sponsor ecco qualche dita di camice di scommesse clandestine qualche cartello della droga che ti dà i skei ma non avete capito proprio un cazzo lo avete capito allora chi cazzo parlo a fare io ma guarda ma va se mi fate incassare io non voglio rendermi ricattabile dai cartelli del cibo preconfezionato dei mobili smontabili degli alcolici dei sciopi da caccia e della spesa a domicilio mi avete mai visto consigliare un formaggino un amaro un detersivo mi avete mai visto suggerire un'assicurazione una banca una birra mi avete mai visto chiedere alla gente di giocare al lotto di fare scommese di stipulare contratti telefonici non ho mai fatto pubblicità né telepromozioni neanche quando ero in televisione io non voglio i soldi del commercio compulsivo voglio i vostri pensa quanto bene che vi voglio che così quando andrete al supermercato non direte mai casso a me mi piace di più l'amaro degli uccellini e invece mi tocca comprare il brandy dei ginepri perché lo dice balasso in televisione eppure a me il brandy dei ginepri mi fa da cagare no non te lo dirò mai comprati pure il tuo casso di amaro degli uccellini e non sentirti in colpa se ti viene la cirrosi ecco io mi sono sempre detto che se sei nella merda devi fare del tuo svantaggio un vantaggio per gli altri e loro ti vorranno bene se ci pensate bene il fatto che noi si lavori così poco è un vantaggio per voi perché abbiamo più tempo per fare queste cose di cui poi voi potrete godere pagando si intende